La donna d'avri tempi, guardate che meraviglia, è una cosa incredibile ragazzi, guardate che roba, la donna d'avri tempi, guardate che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Che meraviglia ragazzi, la donna d'avri tempi, però io vorrei anche vedere come sono invece le donne di adesso, guardate qua. La donna moderna invece ragazzi, viene direttamente dal programma. Il primo appuntamento, canale Real Time, Miss Lato B, più bello d'Italia, Miss Esagerata 2022, Miss Simpatria 2022, Miss Non Sai Cosa Aperti, se non me la dai, questa è la donna moderna. Vedete come cambiano i tempi ragazzi, sono i tempi che cambiano. Abbiamo la donna di un tempo e la donna moderna, lascia stare signorina, guardate che meraviglia, due generazioni, anzi venti generazioni di differenza, forse anche cinquanta, la donna moderna e la di un tempo. Yes! Vai! Una bella volta! Vai! Non vorrebbe essere il mio vero! Guardate che meraviglia! Un applauso ragazzi, guardate questi stivaletti celestini comprati a posto per l'occasione, guardate che roba ragazzi, ci sono le donne qua del sesso senso che hanno, le farfalle hanno, che si muovono, guardate che roba ragazzi, è una cosa incredibile questa donna, questa donna di un tempo veramente splendida, ragazzi. Allora, io vorrei che queste due persone ballassero un bel palo, ragazzi, vediamo come se la cavano, e vediamo, eh? No, 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 no! Vai! No, no, no! No, no!